Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900, testo corretto, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 4 ottobre 2018, numero 113, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Senatori presenti 288, senatori votanti 241, maggioranza 112, senatori favorevoli 163, senatori contrari 59, senatori astenuti 19, il Senato approva.